Benvenuti amici e ben ritrovati un'altra volta insieme quest'oggi per una nuova puntata, quindi come sempre non perdiamo altro tempo e cominciamo. Eccoci qui per iniziare questo nuovo ed entusiasmante anno che non ci farà sicuramente annoiare e che già da subito ci promette novità degne di casa Harley Davidson. Pronti quindi ad accogliere le nuove arrivate vi darò delle anticipazioni per accompagnarvi insieme verso la nuova stagione all'insegna delle giornate spensierate che ci attendono sulle strade che percorreremo in sella alle nostre moto preferite. Ampia la gamma che troveremo quest'anno a partire dalla nuova Sposter 975 insieme al nuovissimo allestimento nella versione S con aspetto deciso che ci contraddistingue per la sua semplicità di guida per chi si avvicina al mondo Harley Davidson ma che saprà regalare ampie soddisfazioni anche per chi desidera mantenere un profilo diverso scegliendo una linea semplice ma che alla correnza può diventare sportiva ed accattivante. Nuove le colorazioni per la Sposter S che per il 2023 si aggiungeranno alla già fortunatissima serie di questa sportiva per eccellenza con grinta da vendere condita con un'estetica unica, inimitabile ed accattivante. Colorazioni nuove anche sulla Panamerica che anche quest'anno continua la sua scalata che in punta di piedi sta pian piano salendo le classifiche facendosi notare con la sua linea esclusiva che esce da tutti gli schemi ma anche grazie alle sue prestazioni che conferiscono una sua personalità indiscutibile a questo enduro che sa farsi apprezzare anche da chi di queste moto se ne intende davvero. Far i puntati nel 2023 sulla gamma per il 120esimo anno quasi sold out le prenotazioni per i modelli che chiaramente sono numerati e limitati nella spettacolare colorazione che devo dire quest'anno si è davvero superata in quanto a fascino e bellezza. Non dimentichiamoci tutta la gamma touring che quest'anno avranno un ruolo molto importante nel panorama delle moto da grandi viaggi e che come sempre sapranno donarci emozioni uniti a comodità e comfort come solo loro sanno regalarci. Il 2023 sarà anche l'anno dell'usato certificato in maniera ancora più attenta ed accurata da noi potrete infatti trovare una vastissima gamma di moto ricondizionate che in molti casi vi sembrano nuove. Il nostro usato vi ricordiamo che è certificato tagliandato e garantito Harley Davidson. Vi vedete e eseggete quindi sempre la garanzia ufficiale perché è l'unica in grado di tutelarvi in caso di malfunzionamenti della moto ed è l'unica che vi consente di prolungare la copertura portandovi così nel tempo la garanzia ufficiale di caso Harley Davidson a tutela della vostra moto. Parlando dell'assistenza vi ricordiamo che da noi potrete tagliandare, customizzare e risolvere qualsiasi tipo di problema che può presentarsi nel corso della vita del vostro mezzo. I nostri tecnici sono a completa disposizione anche sabato sia al mattino che al pomeriggio. Per chi ancora non lo sapesse disponiamo di carotrezzi per recupero moto, carrozzerie e revisioni moto interne. La vostra moto è sicuramente in buone mani con costi ragionevoli considerando il servizio e la qualità che potrete riceverle da un dealer ufficiale come noi. Le vostre Harley Davidson non dimenticate che hanno bisogno di attenzioni, che solo la rete ufficiale può darvi. La prima novità di quest'anno è il pacchetto assistenza, un pacchetto di tagliandi messo a disposizione da American Clan che vi consente di risparmiare sulla manutenzione programmata. Chiedete informazioni al nostro personale in assistenza, è una promozione molto interessante da non sottovalutare. Arrivata nel frattempo tutta la collezione di abbigliamento per il 120esimo, già disponibile in negozio dove fino alla fine di febbraio continueranno i saldi, su merce selezionata in un'ampia esposizione dove troverete veramente tutto ciò che vi viene in mente per voi e per i vostri regali. Disponibili come sempre le nostre e-bike serial 1, ancora poche però le unità sono disponibili con prezzi decisamente interessanti. Per dire amici non dovrei aver dimenticato nulla, vedo che il sole sta cominciando a chiamarci, la stagione rigida si sta piano piano allontanando ed è quindi nuovamente, finalmente ora di salire sulle nostre meravigliose moto per percorrere nuove strade e nuove avventure. In compagnia di buoni amici all'insegna del sano divertimento, noi ci siamo e se voi siete pronti affrontiamo insieme questo viaggio. Nell'augurarvi quindi un buon proseguimento ringraziandovi come sempre per averci seguiti per oggi è tutto, quindi Max e tutto lo staff vi salutano e vi aspettano in via Cigna 116 da American Clan, la vostra concessionaria Harley Davidson qui a Torino. Ciao! Ciao!